Benvenuti a tutti coloro che si sono collegati per partecipare a questo momento. Io saluto a nome di tutto il Festival Francescano e ringrazio calorosamente Gino Cecchettin, il Cardinale Matteo Zuppi, il nostro Cardinale lo conosciamo bene, il Cardinale della Diocesi di Bologna, nonché Presidente della CEI, Gino Cecchettin, il papà di Giulia, titolare di una piccola azienda di elettronica e da un po' di tempo è impegnato nella costruzione di progetti per combattere la violenza di genere. Da ultimo attraverso anche la scrittura di questo bel testo edito da Rizzoli, cara Giulia. Grazie davvero di cuore per aver accettato l'invito a questo dialogo tra noi in occasione del Festival Francescano, di questi 800 anni che ricordano le stimate di Francesco e che avrà come claim il titolo Attraverso Ferite. Ecco, io partirei dal fatto mi ha colpito che proprio nelle prime righe del libro lei si rivolge proprio a sua figlia dicendo che scrive tutto questo, fa tutto questo proprio per fissare per sempre i ricordi di sua figlia. Allora, chi era Giulia? Chi è Giulia? Giulia, beh innanzitutto vi ringrazio per questo invito e ringrazio in particolar modo Monsignor Zuppi che forse è stato colui che mi ha dato il coraggio di scrivere il libro. Giulia era una ragazza fantastica, io lo dicevo anche in tempi non sospetti quando era ancora con noi e l'ho sempre definita la figlia ideale senza volerne meno ad Elena o a Davide ma è sempre rappresentato colei che interpreta la bellezza nel vero senso della parola, nell'anima, altruista, mai disdegnato di aiutare le persone anche a costo della propria libertà, quindi di qualche ora di svago, in casa aiutava tantissimo, anzi dispensava consigli su come fare per poter portare avanti la famiglia nel migliore dei modi, soprattutto dopo che mamma è mancata. Per me è l'esempio più concreto di persona buona. Un esempio su tutti è quando faceva tutoraggio al liceo, è riuscita dove anche gli insegnanti non sono usciti a portare aiuto a ragazzi o ragazze che avevano problemi di salute o che magari facevano fatica di inserirsi e lei con la sua bontà d'animo, con il suo fare da maestrina, cosa che voleva fare in età adulta e poi invece ha scelto altre strade, ma ha sempre portato con sé questa grazia, questo dono che poi ha dato agli altri. Nel suo libro lei appunto si dilunga davvero raccontando tanti dettagli di questo e nello stesso tempo dice che a un certo punto, in quei giorni così difficili e tragici, lei comincia a sentire certe cose, perché un genitore le sente certe cose. Ecco, così noi abbiamo pensato proprio a questo invito a lei, dato proprio un po' il tema che vorremmo affrontare, che cos'è che sente, ha sentito in quei momenti come genitore? Allora Giulia non aveva mai lasciato spazio all'imprevisto, quindi qualsiasi spostamento, qualsiasi fuori programma lo comunicava e quindi noi da genitori abbiamo sempre percepito un controllo, una diretta connessione con lei. Quando non si palesa per diverse ore inizia a pensare male. Addirittura io ho sperato nell'incidente e quindi quando un padre arriva a pensare nell'incidente capisci che dietro di te c'è un retropensiero di qualcosa di più grave. Poi quando abbiamo avuto notizie io ho iniziato a piangere per la perdita di Giulia già nella settimana in cui la cercavamo. Prima Don Matteo Gino mi diceva che lei l'ha sentito quasi fin da subito, insomma ecco mi chiedevo e adesso le chiedevo che cosa invece ha sentito lei, no? In fondo lei comunque da vescovo pastore che cosa ha sentito e che cosa poi anche ha pensato di poter portare a Gino a ridosso di una notizia così tragica? Beh intanto proprio una grande partecipazione per una per l'ansia per durante quei giorni qui diciamo così il buio e la luce cercava la luce diciamo così come Gino ha detto prima di terribile inquietudine che poi hanno coinvolto tutti quanti perché chiaramente era qualcosa che se poi uno lo vive diciamo in maniera purtroppo come qualche volta viene nel diciamo in una idea di spettacolarizzazione oppure di vedere tutto dal buco della serratura è tragico e a mio parere è anche pericoloso, ingiusto, impudico perché come dire banalizza tutto e la vita non è banale, di sofferenza ancora di meno, per questo colpiva e poi la colpiva diciamo così una reazione così forte che capace così di far condividere una sofferenza come questa con un significato cercando subito comunque dando un significato poi in realtà il motivo fu per certi versi i casi della vita perché il parroco di Giulia si stava trasferendo per venire a Roma è stato nominato direttore degli aiuti per il mondo della conferenza episcopale italiana che amministrano parecchi soldi che la conferenza episcopale per fortuna dovrebbero essere ancora di più e speriamo che anche tutti quanti le istituzioni a cominciare dal governo aumenti gli investimenti e gli aiuti per la cooperazione e Don Gabriele appunto che era parroco facendo ancora il parroco con qualche dispiacente facendo invece le valigie per venire a Roma mi raccontò che era il parroco di Giulia e allora io gli scrissi si guarda se pensi io chiamo volentieri il papà ed è stato questo appunto poi il primo contatto ma con... e poi l'altra cosa erano le foto l'immagine di Giulia corrisponde perfettamente le foto adesso comunico esattamente quello che diceva prima Gino con una simpatia proprio istintiva che comunicava diciamo la sua foto una bellezza come appunto diceva prima Gino che rendeva per certi versi ancora più insopportabile, incredibile diciamo che non ci fosse più, che quella bellezza potesse essere spenta Ripartirei proprio da questa immagine anche visiva di sua figlia e dei figli lei ha scelto come sottotitolo del libro quello che ho imparato da mia figlia leggendo il libro io pensavo che potrebbe... poteva non starci anche quello che ho imparato dai miei figli cioè lei veramente si pone con questa grandissima stima rispetto ai propri figli e questa cosa mi colpiva tantissimo a un certo punto dice che le cose importanti sono le parole che i figli dicono proprio a te ecco questo mi piaceva un po' chiederlo a entrambi in una società che invece rispetto ai giovani è piuttosto negativa e giudicante lei ci consegna invece la figura di un adulto, un genitore che impara e desidera imparare dalla figlia non sono sempre stato così devo onestamente ammettere che quando ho deciso di fare una famiglia con Monica ero improntato nell'idea di educazione classica dove i genitori devono essere severi, farli crescere bene e fino ad una certa età essere loro gli artefici del destino dei figli però poi quando ti trovi davanti delle creature che sono meglio di te perché bisogna metterlo Elena l'ho sempre definita un essere superiore perché con lei non riuscivi ad averla vinta ma non nel senso negativo del termine, nel senso positivo perché lei con il ragionamento ti portava a vedere delle cose che tu non riuscivi a vedere quindi bisogna riconoscere che hanno dei mezzi in più da un lato segno che probabilmente la mamma che è la maggiore artefice della loro educazione ha fatto un buon lavoro io molto meno, lo ammetto perché è sempre stato in giro per lavoro e quindi quando ti trovi di fronte a questa triade di esseri bravi non puoi non recepire quello che loro ti dicono quindi aumentare l'ascolto, ragionare su quello che loro ti dicono e provare a capire il loro mondo forse noi genitori partiamo dalla supponenza di arrivare da coloro che sono alla parte del giusto nell'insegnamento e invece chiaramente il punto di vista dei figli è sicuramente magari più immaturo perché l'esperienza di vita è minore però possono dire tanto perché quel punto di vista lì non è ancora influenzato da alcune vicende della vita che magari i genitori hanno avuto è influenzato in questo caso negativamente quindi sono più puri nel modo di pensare nel caso di Giulia poi era innegabile che lei vedesse il mondo tutto un'altra prospettiva sicuramente molto pura, molto altruista lei dava un'anima a qualsiasi cosa oggetto o essere vivente dai ragni, dalle formiche, dai fusilli e questo non poteva che insegnarti qualcosa ce ne sono diversi aneddoti che posso raccontare dove io ho imparato molto e essendo il libro dedicato a lei ho scritto quello che ho imparato da mia figlia ma sicuramente ho imparato molto da Elena e molto sto imparando da Davide Sì, infatti bisognerebbe davvero leggere il libro per capire tutto quello che lei ha imparato Don Matteo, la Chiesa che cos'ha da imparare dai suoi figli giovani che a volte sono un po' ai margini se non proprio molto critici? Molto, perché poi penso che anche io penso che ci siano tanti ragazzi, tanti giovani che ci aiutano per esempio a riscoprire l'altruismo noi molte volte la Chiesa complica mette dei filtri e l'altruismo li supera oppure ci abbiamo tanto da imparare nel senso del guardare l'altro senza diffidenza mi colpiva l'esistenza di di Gino nel descrivere Giulia che guarda l'altro e cerca di trovare come aiutare no? di riuscire ad arrivare ecco molte volte per esempio la Chiesa e gli adulti osservano molto la regge dell'impossibilità quelle cose non si possono fare diciamo con un realismo che diventa poi triste che diventa rassegnato no? penso che la Chiesa deve dare fiducia e Gino diceva insomma papà e papà resta sempre papà non c'è dubbio su questo le due cose non sono alternative non è che viene meno alla funzione come penso sia stata Monica insieme come sempre perché poi non è insomma probabilmente chi lo ha esercitato di più ma insomma è sempre insieme e la riconoscere la stima riconoscere la bellezza anche appunto delle quante cose ho imparato quante cose possiamo imparare e non è mai contraddittorio con l'essere padre che continua ad essere continuerà ad essere non c'è dubbio ma che forse ci aiutano anche ancora di più a capire la ricchezza che i giovani possono dare e portano già non è che è futuribile cioè dobbiamo sapere lo riconoscere ecco questo sì e dobbiamo anche aiutare appunto a dare fiducia a a dare fiducia a loro lei a un certo punto parla proprio di alleanza se non sbaglio nel libro dove dice proprio che la strada è costruire questa alleanza insieme genitori figli ecco l'alleanza è proprio una categoria prettamente biblica quindi dice davvero questo riuscire a trovare insieme una strada di futuro ed è ed è davvero colpisce ecco forse è questa anche forse quella feritoia che in queste situazioni si spalancano paradossalmente in una situazione così tragica i giovani possono tirare fuori quello sguardo oltre che che forse ci aiuta anche ad andare avanti ecco mi colpiva anche Elena come anche subito dopo quello che è accaduto a Giulia ha tenuto la testa alta e lo sguardo davvero oltre quindi veramente sì perché i giovani non hanno quelle condizioni limitanti che di solito hanno quelli con qualche anno in più di fronte ad un nuovo progetto chi magari ha già vissuto un po' di vita inizia a porre dei limiti devo fare una nuova azienda sì ma il mercato è difficile devo aiutare non so l'asilo sì però io non ho tempo si mettono sempre dei palletti in mezzo e sono quelle cose che limitano effettivamente poi le scelte perché prima ancora di decidere di agire si mettono questi parametri un po' per precauzione un po' perché tutto sommato l'area di comfort fa bene invece i giovani non sono così i giovani hanno entusiasmo anzi vanno oltre come ha fatto Elena Elena fin da subito ha analizzato in modo razionale qual è stata la causa dal suo punto di vista chiaramente dell'omicidio di Giulia e l'ha comunicato ed ha creato uno squarcio anche nelle coscienze perché nessuno si aspettava forse lei è stata veramente quella che ha fatto cambiare un po' l'opinione che ha smosso un po' tutti se probabilmente avesse avuto qualche anno in più avrebbe iniziato a dire ma cosa penseranno di me serve la verva dei giovani serve l'esperienza di quelli meno giovani ecco appunto che l'alleanza è un confronto costruttivo può portare sicuramente a grandi cose secondo me grazie grazie davvero perché insomma credo che sia una bella davvero iniezione di speranza ecco come attraversare proprio le ferite questa strada anche di creare un'alleanza con i giovani credo possa aprire tanto anche nelle nostre società un po' troppo a volte chiusa su sé ecco riprenderei quello che diceva adesso lei su Elena per per entrare un po' davvero nel vivo di quello che poi è è accaduto a Giulia e che lei ha avuto il coraggio come appunto poi anche lei ha ripreso nel suo libro di chiamare con il nome giusto un femminicidio quindi dentro quella grande tragedia che è la violenza di genere rispetto alla quale a volte si fa fatica anche solo a nominare sembra che sia solo un vezzo linguistico ma così non è perché la storia purtroppo ci consegna una realtà lei in ben due capitoli del libro riporta anche dati che ci aiutano davvero a capire la gravità e l'importanza anche di una consapevolezza di questo tema e come appunto è avvenuto per lei questo a livello anche proprio personale insomma è avvenuto proprio tramite un dibattito con Elena dopo che avevo visto avevo prima sentito la risonanza che aveva creato e non me la spiegavo perché io pur avendo l'account social non utilizzo molto soprattutto Instagram è qualcosa forse mi considero più un boomer anche se la tecnologia la padroneggio bene però sono più da altri tipi di social tipo Facebook Instagram non lo vedevo e sentivo questo cancano ho detto ma cosa è successo allora sono andato a vedere e poi mi sono messo a parlare con lei e ho chiesto ma perché hai tirato fuori il patriarcato cosa c'entra in questo io vedevo solo un atto di gelosia estremo che ha portato ad un'azione poi così estrema e invece lei mi ha fatto proprio l'esegesi di tutto l'avvenimento e sulle mie ovviamente sono rimasto perplesso poi io applico sempre il metodo della ricerca sono estremamente razionale credo molto nella scienza e quindi quello che non so cerco di capirlo e ho preso il dizionario semplicemente sono andato a vedere sotto la voce patriarcato ed effettivamente c'era nei tre significati l'ultimo quello dove viene spiegato che atti di prevaricazione da parte di maschi verso le femmine che ne limitano la libertà spesso anche in modo violento e quindi ho capito che effettivamente dietro è comunque sotto il cappello patriarcato e va spiegato il gesto di Filippo e quindi l'ho supportata quindi quando ho fatto la mia orazione funebre ho sostenuto le tesi di Elena che poi sono diventate anche le mie e quindi portare avanti una lotta per per la parità di genere secondo me è doveroso io infatti davvero sono proprio rimasta colpita quando ho ascoltato la sua orazione funebre perché avevo seguito un po' sui social Elena e le risonanze e mi ha colpito insomma a vedere comunque un uomo come lei come potrebbe essere mio padre quindi non un attivista non uno che potrebbe essere appunto subito accusato di faziosità ma una persona come tutte che ha il coraggio appunto di usare queste parole e di invitare poi nel suo libro è veramente molto bello lei dice siamo noi uomini i primi a dover cambiare io sono partito da quell'uomo che vorrei essere ma che non sempre sono stato sono parole davvero che fortissime insomma io la ringrazio per averle per averle scritte pronunciate e anche perché ecco in maniera molto profonda lei spiega che questo non significa togliere niente a nessuno ma anzi è un guadagnare cioè è lo stesso uomo maschio che ci guadagna da rivedere i propri condizionamenti culturali i propri atteggiamenti che poi impregnano la nostra cultura e che sviliscono in primis anche il maschio oltre che purtroppo poi in realtà portare alla tragedia a cui noi assistiamo troppo spesso ecco questa forse è una cosa che adesso vado in un terreno a me sconosciuto dove non sono sicuramente esperto e neanche meno autorevole però ho come la sensazione che quando dai più diritti ad una persona ad un genere di persone sembra che gli altri ne vengano meno ma non è così assolutamente quindi il fatto di avere una parità tra maschi e femmine non significa che i maschi hanno meno libertà e lo possiamo applicare lo stesso ragionamento in tante altre parti in tanti altri aspetti della società però questi rettaggi che ci arrivano probabilmente da anni e anni di educazione maschilista sostanzialmente fan sì che ad oggi queste visioni queste prese di posizione vengano attaccate e non condivise quando poi anche nel linguaggio stesso abbiamo espressioni di questo quando questo problema lo risolviamo da uomo a uomo o al figlio dire tu sì che sei un uomo non fare la femminuccia tutte queste espressioni fanno nascere poi un bambino convinto di valere più di una donna e questo va sradicato quindi va destrutturato un po' il modo di pensare Don Matteo a questo punto devo chiedere anche a lei qualcosa in proposito cioè quanto forse anche la chiesa e la comunità cristiana contribuisce a volte ha contribuito anche a mantenere questa visione culturale quanto invece forse ha bisogno di rimettere in crisi anche certi propri schemi modi di pensare di agire anche proprio come cristiana come cristiani e come chiesa dunque no sicuramente intanto c'è il problema della cultura diciamo così perché ascoltando Gino ma in fondo Gesù sarebbe una femminuccia perché Gesù piange per esempio o Gesù fa sempre il primo passo verso gli altri diciamo un'idea di uomo appunto maschilista sugli altri possono loro che devono dire da me diciamo così invece Gesù fa il primo passo anzi addirittura descrive il suo padre come un padre che di fronte al figlio che torna non si tiene diciamo così è molto più madre no che padre per certi versi secondo anche lo stereotipo il padre avrebbe dato adesso che qua ti do una lezione che la prossima volta voglio dire se ti prendi ancora i soldi te ne vai via ti do io una lezione invece il padre che l'abbraccia che manifesta l'affetto che manifesta i suoi sentimenti e Gesù stesso manifesta i suoi sentimenti diciamo di commozione di partecipazione non riesce non so per esempio quando vede Marta e Maria che piangono e piange non riesce a non piangere con un senso di partecipazione che in un certo stereotipo appunto sembrerebbe appunto cerevole tenerone in fondo diciamo appunto non ecco allora pur avendo ecco una così un da 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 imitare un'umanità così diciamo la cultura molte volte è andata del tutto su dei modelli insomma qualcuno un po' molto primitivi ho l'impressione che ci sta anche una certa regressione su alcuni temi diciamo così che siamo un po' più qualcuno direbbe damaschio alfa che diciamo con siccome come diceva quell'altro non siamo stati fatti per vivere come bruti ho l'impressione che qualche volta pensiamo così in un modo brutale e anche di di relazionarsi con gli altri di relazionarsi con le donne da questo punto di vista un'idea molto da prestazione molto fisica molto un po' pornografica a mio parere certamente non aiuta proprio di possesso e di di poca capacità di di imparare a voler bene no ecco in questo senso sì no penso che la chiesa ha tanto da aiutare questa a vivere una relazione di 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 una vera relazione una relazione di amore che quindi vuol dire ovviamente la prima cosa fondamentale diciamo è il rispetto il fatto che che dell che l'altro non è mai in mio possesso che l'amore è esattamente il contrario del possedere no credo che però appunto senz'altro abbiamo e forse c'è tutto discorso anche del ruolo della donna nella chiesa che trova la vera risposta nel pensarsi insieme nell'amore che quindi non vuol dire solo qualcosa di più del fare le stesse cose o del qualcosa di più perché è proprio il pensarsi insieme però appunto in un pensarsi insieme e in una reciprocità e in una complementarietà di cui credo che ancora abbiamo molto da imparare e questo forse adesso mentre lei parlava mi veniva un po' da pensare è per esempio una delle cose che sicuramente possiamo imparare dai giovani perché ecco su questo tema anche la sensibilità è molto forte anche una delle prime no anche questioni che spesso allontanano a volte anche i giovani dalla chiesa questa a volte fatica a vedere riconosciuti anche i diritti la paridignità delle donne anche proprio nel suo volto istituzionale e mi colpiva appunto sempre andando avanti il fatto che lei da subito proprio a nome di quello che anche attraverso Elena stava un po' rielaborando dice a un certo punto del libro ho capito subito che Giulia stava diventando di tutti anche questa è una frase fortissima detta da un genitore in un contesto così ecco così doloroso che cosa ha significato questa Giulia che diventava di tutti per me sicuramente un aspetto positivo della vicenda iniziavo a vedere sbocciare qualcosa che andava oltre anche semplicemente alle mie capacità di comprendere il tutto però è bastato vedere le reazioni della gente quando si stringono addosso un intero paese poi ha dimostrato telefonate da ogni parte d'Italia Giulia ha veramente bucato l'animo di tutti e penso che l'abbia fatto solo con il suo sorriso e i suoi occhi perché molti l'hanno vista solo in video da un punto di vista di un genitore forse ecco se pensiamo allo stereotipo della famiglia che si vuole sempre vicino a sé è un po' un dispiacere però noi siamo cresciuti nella nostra famiglia con l'intento di lasciare andare i ragazzi questa è una delle cose che con Monica abbiamo sempre condiviso li facciamo diventare grandi ma anche lei diceva a 25 anni massimo via di casa poi noi dobbiamo vivere la nostra vita voi la vostra e vedere che poteva nascere un un germe di di bene da questa vicenda per me è stato è stato un segno anche da un certo punto di vista perché ho rinunciato un po' alla mia privacy soffrendo anche un po' in famiglia perché l'idea era quella di mantenere tutto tra le mura di casa e ho preso posizione ho detto no Giulia è di tutti deve essere di tutti perché lei può far nascere un sentimento positivo e pensavo alle altre Giulie che potevano soccombere sotto le mani di altri carnefici ho detto se lei riesce con il suo esempio anche solo a salvarne una abbiamo comunque salvato una vita che è tanta cosa e quindi per questo ho detto doniamola doniamo l'esempio di questa ragazza per cui abbiamo deciso di fare il funerale nella Basilica di Santa Giustina per avere più persone attorno e poi il resto del progetto che sta andando avanti sta andando avanti leggevo questo non lo sapevo che poi purtroppo in realtà come sempre in queste situazioni anzi come sempre come purtroppo tragicamente accade è stato anche bersagliato e quindi ha dovuto aggiungere diciamo e sopportare a dolore ulteriore dolore legato a chi in qualche modo da queste situazioni poi vuole sempre speculare o chissà trarre che cosa per fortuna per breve tempo perché sono stati solo due giorni nei quali non ho pensato a Giulia che per assurdo perché a pochi giorni dal funerale ho proprio fatalità dopo che ho fatto l'orazione funebre e supportato Elena con il famoso discorso sono arrivati gli attacchi e poi grazie anche a Don Gabriele siamo andati a fare una passeggiata mi ha un po' fatto capire che c'è un percorso da fare dove si parte dal buio per arrivare al sole è stata proprio una bella metafora di vita e quando sono tornato quella sera eravamo in macchina già iniziavo a sentire l'animo più sollevato poi ho commensurato i dolori ho detto ma quanto mi manca Giulia quant'è il dolore di Giulia per me quant'è il dolore per questi attacchi le cose erano di ordini di grandezza differenti quindi il resto è svanito magicamente per cui è stato un piccolo passaggio ma anche lì un insegnamento di concentrarsi sulle cose che veramente contano poi Dante diceva non ti curare di loro ma guarda e passa quindi forse questo è l'insegnamento sì sì è che uno rimane colpito dal fatto che poi appunto lei ha veramente una compostezza una dignità in tutto questo che pensare che poi possa essere bersaglio anche no di accuse di questo tipo sembra assurdo e mi riattacco a questo per dire che forse proprio come lei scrive questa è proprio quella cultura dello scontro del sopruso della forza nella quale noi siamo veramente impregnati a volte sicuramente a volte anche i mezzi di comunicazione diventano dei veicoli molto facili all'uso ecco pronti all'uso lei invece parla di costruire questa cultura della riconciliazione come si fa da cosa si deve partire si deve partire dalla bellezza perché concentrandosi su aspetti negativi e nella società d'oggi ne abbiamo di esempi però concentrandosi sulle cose belle viene automatico pensare ad altre cose belle ad altre cose positive e quindi anche nei rapporti quindi è chiaro che è sempre facile parlare male che non parlare bene forse è un po' insito nel genere romano quando c'è il vicino di casa che si fa la casa nuova non si è contenti quando c'è il compagno di classe che prende un bel voto non si è contenti per lui si rode sempre dentro forse dovremmo un po' partire da lì e dire dovremmo essere contenti anche per gli altri questo è forse alla base di quello che poi è la cooperazione magari in altri paesi io ho lavorato molto in Germania c'è molto più spirito di cooperazione in Italia vedo che è più spirito di competizione che poi alla fine ti fai la guerra l'un con l'altro e a grandi livelli si rimane sempre un po' più indietro quindi ci si livella verso il basso quindi la cooperazione invece porta a livellarsi verso qualcosa di più alto e non è facile però bisogna concentrarsi forse su quelli che sono gli aspetti positivi almeno secondo me Don Matteo faccio anche a lei la stessa domanda lei è impegnata su tantissimi fronti a costruire questa riconciliazione innanzitutto ripartiamo dalla scelta di Gino e dalla scelta forse qualcosa di più della scelta anche qualcosa che fa parte tanto di lui poi lo vive sempre in maniera molto razionale effettivamente però appunto la bellezza dunque questo è anche il primo motivo per cui sottrarsi alla rissa che invece qualche volta purtroppo quando non sai vedere altro poi sei catturato da questa e giustamente Gino si è sottratto da tutta la tentazione così di entrare nella logica diciamo della 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 rissa la bellezza e saperla riconoscere anche Gino diceva prima al fondo molte volte sappiamo che è soltanto il negativo e poi mentre appunto la diciamo la scelta di cercare quello che di mettere da parte quello che divide adesso faccio due esempi più uno appunto la grande così il modo con cui Giovanni XXIII invitava mettiamo la parte di vita e cerchiamo quello che unisce la bellezza vuol dire anche il saper valorizzare l'altro no e però nel saper riconoscere anche qualcosa che poi può diventare anche mio l'altro pezzo di discorso e poi finisco sulla riconciliazione è l'evitare il confronto ora in effetti il primo omicidio la prima violenza tra i due fratelli nasce per il confronto nasce in cui nasce da quando quello che è suo o non è mio quindi dall'idea del confronto come esclusione per cui Caino è Abele Abele ha il Dio che sceglie e gradisce quello di Abele questo punto immediatamente significa diceva il marodere diciamo l'istinto che porta tanto peggio ancora di più perché poi si perde la fraternità che invece dice beh sono contento per lui il mio fratello sono contento per lui imparerò oppure subito diventa il confronto diventa facilmente la competizione no? e siamo in un mondo appunto in cui c'è tutta una un'enfatizzazione di questo del pensarsi in maniera competitiva la prestazione per cui appunto il confronto diventa molte volte motivo di orgoglio o di depressione perché poi è molto funzionale tra l'uno che l'altro allora la riconciliazione è ricostruire la fraternità è ricostruire la bellezza dell'altro e quindi anche che nell'amore diventa mio proprio perché non lo possiedo e qui c'è credo un grandissimo insegnamento evangelico non c'è dubbio che nel pensarsi insieme nel sempre nella parabola del padre misericordioso il padre dice al fratello maggiore tutto ciò che è mio è tuo diciamo la regola di casa qual è che poi la regola di casa in famiglia se il figlio non c'è il confronto sono contento per lui in realtà è la regola dell'amore in cui perché tutto ciò che è mio è tuo ma proprio perché non lo possiedo ma lo amo ecco credo che la riconciliazione in realtà vera nasce da ricostruire questo legame di amore e di fraternità stavo pensando che appunto quello che state dicendo è quanto mai vero appunto proprio a partire dalla tragedia che ha colpito Giulia nella relazione uomo-donna questo appunto non entrare in competizione non ritenere l'altra in questo caso perché le statistiche ci dicono che è la donna essere ritenuta spesso possesso dell'uomo e quindi ecco quanto c'è bisogno di una riconciliazione autentica anche nella relazione uomo-donna dentro la nostra società dentro la nostra comunità cristiana e dove questo può passare solo da questo riconoscimento autentico ecco di una paridignità poi sono d'accordo con quello che diceva lei don Matteo che è vero che non è sempre un rimettere i piani in una logica matematica in equilibrio in una logica matematica è altrettanto vero però che forse è anche un cammino di consapevolezza rispetto a certi privilegi o comunque condizioni che chi appartiene al genere maschile vive chi invece nasce donna vive in maniera differente tante pensatrici e scrittrici pongono l'interrogativo sul fatto che noi donne ben presto su questo tema ragioniamo la vita ci costringe no la provocazione che lei Gino nel suo libro fa è che in qualche modo anche gli uomini possono fare altrettanto non solo ci auguriamo a partire da queste tragiche situazioni ecco per stare dentro appunto questo tema che stiamo attraversando delle ferite mi colpiva tanto perché la sua storia è stata molto segnata da queste ferite ingiuste della vita e quindi lei descrive tante sfaccettature dell'esperienza del dolore della sofferenza della perdita di persone care anche di sua moglie a un certo punto parla del silenzio e di quei dolori improvvisi che colpiscono quando uno meno se ne aspetta proprio come mancanza di qualcuno come si fa a attraversare questi momenti bisogna immergersi nel dolore non c'è niente non si può scavallare e andare oltre comunque un caro ti mancherà ti mancherà per sempre e io ho imparato da prima con Monica e adesso con Giulia a immergermi anzi a cercarlo in alcuni in alcuni momenti della settimana magari dopo dopo qualche giorno di attività lavorativa dove sei portato anche con la mente ad essere altrove cercare il momento di riflessione quindi vado nella stanza di Giulia mi siedo mi guardo i disegni le foto e mi metto anche la canzone preferita e questo è dolorosissimo ma per me è assolutamente indispensabile perché T1 è il mio momento di connessione con Giulia e adesso lei è viva in me in questo modo e quindi anche il dolore mi rimette in contatto con lei e poi passa e ne esco magari stanco ma più forte nella nella forza questo è il mio modo di fare le cose chiaramente o poi ognuno può può trovare una sua strategia però secondo me non se ne esce se non si attraversa il dolore nel pieno è un po' come come un allenamento ecco forse il paragone è un po' diciamo squilibrato ma quando ci si allena molto anche ad attraversare il dolore si supporta anche di più io penso sempre che se avessi non avessi avuto l'esperienza di Monica forse non sarei riuscito a fronteggiare la perdita di Giulia perché poi una malattia la si comprende chiaramente morire a 51 anni non è nella logica della vita normale ma è un qualcosa che rientra già di più negli schemi la morte di Giulia sicuramente no quindi devi avere ancora più forza per poterlo affrontare non abbiate paura del dolore ecco questo questo mi viene da dire che comunque ti tempra ti fortifica l'importante è farlo magari per piccole dosi per aver sempre di più l'allenamento per sorpassarlo spesso noi cristiani invece un po' pensiamo che il dolore sia un qualcosa da quasi non dover sentire o comunque a volte da dover risolvere un po' in fretta un po' il rischio di cui a volte veniamo anche un po' accusati è questo lei Don Matteo di che rapporto ha con il dolore con la morte delle persone care dunque noi la chiesa per una qualche così arrivandoci sempre in molti casi con le migliori anzi no sempre con le migliori intenzioni ha dato un valore al dolore addirittura appunto per cui tu soffrivi tu in qualche modo condividevi ora in realtà il ragionamento dell'estima cioè il ragionamento l'estima te stesse ma probabilmente nascevano un po' da quella da quell'amore di di San Francesco per Gesù che faceva provare quel dolore no tanto che quel dolore poi diventa anche il suo anche nel senso proprio fisicamente il suo no quando prima appunto Egino parlava in fondo io l'affronto è anche un modo in cui so che questo mi fa soffrire però mi unisce anche profondamente alla a far sentire ancora di più la lontananza l'assenza ma in un qualche modo sperimento quello che è Giulia no e in fondo l'estima che cosa voglio dire io faccio mio il suo dolore vivo tutta la sua fisicità la faccio anche la faccio anche mia no la chiesa la chiesa la sofferenza c'è non è che la chiesa si va a cercare questo è importante perché qualche volta appunto una qualche deformazione sembra che in qualche modo ti fai del male la chiesa non vuole la sofferenza faccio un esempio per sul la il fine vita in cui purtroppo è anche spesa accompagnare la sofferenza la chiesa anzi bisogna togliere la sofferenza non bisogna soffrire le cure palliative sono qualcosa di assolutamente santo che appunto permette anche di affrontare la morte ma il vero problema e non scappare cioè lì il vero noto il vero problema è fare quello che e non fare quello che purtroppo in particolare questo nostro piccolo pezzo di mondo che c'è talmente tanto benessere che in fondo non sa affrontare la sofferenza la scappa, la rimuove, la nasconde cerca continuamente analgesici vanno benissimo però devi affrontare la sofferenza per poterla vincere in questo anche appunto la condivisione di tanti sentimenti condivisione di un dolore terribile perché cara Giulia vuol dire anche insomma, sono state scritte penso con molte lacrime queste pagine perché vuol dire anche ogni pezzo è anche misurare che non c'è quindi misurare anche l'assenza ma proprio in questo nell'affrontare nell'affrontare la difficoltà nell'affrontare l'assenza al contrario si misura la presenza si misura il tanto che c'è il tanto che unisce il tanto che non finisce nel discorso di Cino al funerale appunto veramente con una che dava tanto significato a qualcosa che tragicamente non ha significato che la morte così è tanto più appunto con qualcosa in questa maniera così tragica fa sentire proprio l'assurdità no? e lui ha detto una cosa dice io non credo ma spero e questa lì c'è a mio parere anche come dire anche tanta forza che chi ha il dono della fede ancora di più no? per certi versi deve trovare appunto la speranza e questo questo Giulia di tutti ci aiuta tanti a sapere affrontare con 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 tanta umanità senza sconti ma proprio per questo con con qualcosa che che è più forte del dolore più forte della morte per cui le stimate diventano delle ferite dove alla fine vediamo la luce e non il buio vediamo l'amore e non la morte avviandoci verso la conclusione faccio questa associazione che spero non sia indebita tra proprio il tema del festival che è attraverso ferite l'esperienza di Francesco D'Assisi di queste ferite che diventano delle feritorie quindi da cui la luce traspare con quell'incipit che lei fa nel libro dove dice il desiderio di trovare la possibilità di danzare nella pioggia ecco mi sembrava che questa immagine della danza nella pioggia oltre che probabilmente mutuata dalla sua esperienza di ballerino che impariamo nel testo sia una bellissima immagine per dire che appunto non ci accontentiamo solo poi di un attraversamento che ci chiuda ma di uno riscoprire una danza dentro questa pioggia come come è possibile che cosa adesso la la fa danzare ma io cerco sempre di trovare un significato per il dopo e già nella prima settimana io avevo iniziato a capire che ci sarebbe non ci sarebbe stato un dopo con Giulia e quindi ecco il perché della mia sofferenza e quando sono andato in cerca di un qualcosa che esprimesse il mio stato d'animo ho trovato nella poesia di Gibran esattamente quello che io sentivo quindi un forte dolore ma vedendo Elena e Davide sentivo anche il desiderio di comunque offrire solidità solidità la puoi offrire se comunque sei in pace con te stesso quindi anche provando dolore per la mancanza di un caro ma comunque trovare dei motivi nella vita per essere felici che è poi quello che ci porta avanti che sia un futuro per Elena e per Davide che sia comunque un progetto nuovo che sta nascendo grazie al libro quindi alla fondazione o che sia semplicemente anche solo un progetto mio di vita nuovo ma comunque deve portarmi a anche sorridere perché poi io penso che si deve avere il diritto di essere felici ho imparato una cosa che la vita è breve e quindi uno dei più grandi insegnamenti è quello di farne tesoro in questo breve tempo che abbiamo e non sprecarlo sicuramente e cercare di trovare il massimo anche con la felicità a volte danzando sotto la pioggia quindi andano contro la sorte anche lei è un abile ballerino Don Matteo no assolutamente no però danza no è soltanto una festa di classe a 14 anni la mia carriera di ballerino per adesso però in Africa qualche volta perché in Africa diciamo così la danza è proprio qualcosa anche di liturgico e quindi qualche volta così è più in chiesa ecco quindi non è una grande carriera però danza dentro tante piogge e tempeste anche lei sì no bisogna e direi che affrontare non scappare affrontare diciamo le avversità tendenzialmente siccome poi siamo anche una casa francescana no beh sarebbe la perfetta letizia di San Francesco San Francesco dice frate Leone adesso ti spiego che è la perfetta letizia e ti racconta una cosa una peggio dell'altra arriva fa freddo fa non fare male le gambe arriva tutto beh c'era arriva al convento bussa lo chiamano ma io sono frate Francesco no tu non sei frate Francesco quindi escono i frati con il tortore gli danno un sacco di tortorate dice beh questa è la perfetta letizia allora questo ovviamente sarebbe dice no questo è uno che si può fare del male oppure è uno che non so che non capisce eccetera in realtà direbbe Gino imparo a danzare sotto la pioggia imparo perché e qui perché c'è un amore più grande allora perché San Francesco era l'amore del Signore che resta con me che anzi che mi rende più forte di tutto durante quell'avversità è l'amore per Davide è l'amore per Elena in realtà è sempre anche l'amore per Monica è sempre l'amore per Giulia che in qualche modo per cui la pioggia non mi vince ma sono io che la vinco e con una forza della vita che mi permette di essere addirittura di trasformare appunto le ferite in qualcosa di pieno di vita e questo è sostanzialmente il segreto di Dio in realtà il segreto dell'amore è il segreto di Dio grazie grazie davvero Gino per non solo questa sera anzi questa sera credo che sia così stato un grande regalo che ha fatto a noi alle persone che ci hanno seguito grazie davvero per quello che ha fatto e che continuerà a fare grazie al cardinale di averci accompagnato grazie a sua Chiara che mi sembra che è stata così molto abile ringrazio davvero voi spero che questo abbia così fatto nascere davvero anche il desiderio oltre che di leggere veramente il libro di Gino Cecchettin poi di ritrovarci insieme a settembre dal 26 al 29 a Bologna per il Festival Francescano che come dicevamo all'inizio avrà questo claim attraverso ferite ma che da questa sera avrà come sottotitolo imparare a danzare sotto la pioggia grazie e ben trovati a tutti al Festival Francescano grazie